La Valle dei Templi di Agrigento e il Teatro Antico di Taormina figurano tra i primi sette siti più visitati d'Italia. Prima ancora del Museo Egizio, della Regia di Caserta e di Villa Adriana e Villa d'Este a Tivoli. Al top anche Siracusa, la Valle del Casale di Piazza Armerina, i parchi di Segesta e Selinunte e il Chiostro di Monreale. I dati sono stati diffusi dal Dipartimento Regionale dei Beni Culturali, guidato da Sergio Alessandro, dopo che il Ministero dei Beni Culturali, nei giorni scorsi, nello stilare la gradatoria nazionale, non aveva inserito gli analoghi luoghi siciliani della cultura. Una dimenticanza dovuta all'autonomia che la Regione ha in materia. Sono ben sette i siti che si collocano nei primi 37 posti delle destinazioni più frequentate da visitatori e turisti in Italia. Ad esempio il Parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento, che nel 2019 ha superato i 940.000 visitatori, e il Teatro Antico di Taormina, di poco sotto gli 890.000 ingressi, risultano a ridosso del Colosseo a Roma, dei Uffizi a Firenze e del Parco a Pompei. Anche il Parco archeologico di Siracusa, che si colloca con quasi 700.000 visitatori prima del Museo archeologico di Napoli, della Galleria Borghese di Roma, del Parco archeologico di Pestumo, della Pinacoteca di Brera e dei Musei Reali di Torino, vede un suo momento di grande rinascita, grazie anche ai recenti provvedimenti messi in atto dal Governo regionale, che ha riordinato il sistema dei parchi archeologici. I beni culturali siciliani, i luoghi di fruizione, come i parchi archeologici, i musei, le gallerie, le biblioteche, evidenzia il Presidente della Regione, Nello Musumeci, costituiscono un bene comune da preservare e valorizzare. Certamente sono luoghi che devono attrarre turismo e creare un circuito produttivo e occupazionale, ma nel contempo devono essere parte integrante del territorio, della sua identità e generare crescita civile della nostra comunità. Lo sforzo che il mio Governo sta compiendo con attenzione, investimenti, eventi di valorizzazione, va e proprio in questa direzione. I primi risultati ci sono già, ma devono moltiplicarsi anche in termini di visitatori. Gli incassi ottenuti nell'ultimo anno mi fanno ben sperare, non appena i parchi entreranno al regime e avremo fatto un restyling dei musei che stiamo programmando, si vedranno gli effetti.